storia o leggenda ho letto che nell'antico testamento 2 sam 3,4 1 re 1,2 adonia era il quarto figlio di davide e della sua concubina agit dopo la morte dei fratelli maggiori amnon e a salonne adonia è l'erede legittimo al trono e si fa acclamare re durante un sacrificio nei pressi di gerusalemme il capo dell'esercito ioab e il capo dei sacerdoti abbiatar assistono alla cerimonia in qualità di testimoni sono presenti tutti i figli e dignitari di davide ad eccezione di salomone fratellastro di adonia che davide stesso aveva destinato al trono la madre di salomone bezzabea teme per la vita propria e per quella del figlio e col consenso di davide fa ungere re salomone da zadok e natan mentre gli ospiti di adonia stanno ancora festeggiando vengono a sapere della decisione di davide e si danno alla fuga adonia si salva cercando protezione nel tempio salomone gli risparmia dopo la morte di davide adonia tramite bezzabea chiede al re salomone di dargli in moglie la concubina di davide abisag di sunem per salomone questa richiesta equivale ad una rinnovata rivendicazione del regno e pertanto fa giustiziare adonia e anche io ab che lo sostiene questa storia o leggenda a che serve commento serve alla tradizione ebraica per la quale adonia costituisce un esempio e un monito per a coloro che desiderano ciò che non gli spetta è servito ad a bernasconi per la sua opera adonia da lui stesso definita dramma sacro e rappresentata a venezia nel 1746 non esiste nulla che già esiste che non abbia motivo di esistenza